segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te ma sì diciamo il forum ambrosetti è dopo il meeting di rimini il primo diciamo test dopo l'estate per sentire che cosa che cosa succede nel paese in generale la vigilia dell'autunno che è sempre un autunno in cui si riprende e quindi i nodi vengono al pettine quest'anno in maniera ovviamente estremamente amplificata perché come dicevi tu è campagna elettorale e anche non è una campagna elettorale normale cioè abbiamo lo accennavi la guerra abbiamo la crisi energetica abbiamo anche se completamente sparito dai giornali l'incognita del covid perché noi torniamo con io penso alle scuole scuole dove non sono stati installati i depuratori dove sul trasporto pubblico è stato fatto molto poco e quindi appesi a quello che saranno le varianti c'è il presidente dell'anp dei presidi che ha lanciato proprio questa denuncia ecco e quindi diciamo ci sono grosse incognite cernobbio gli imprenditori sono quelli che in questo momento prima di altri perché i cittadini in qualche modo hanno fatto le vacanze c'è stata una grande ripresa del turismo quindi adesso si troveranno alle prese con gli zaini e col carrello della spesa gli imprenditori invece hanno già visto che soprattutto delle imprese energivore che cosa sta succedendo le bollette e la materia prima la difficoltà di trovare il packaging quindi io credo come come già si leggeva sui giornali che cercheranno di capire in concreto e in che tempi potrebbe cambiare quel qualcosa tant'è vero che c'erano delle voci oggi sul corriere della sera un articolo di fubini in cui chiedevano lo scostamento di bilancio che è il grande tema quello che draghi non vuole non vuole dare che i partiti invece vorrebbe non vogliono sentirne parlare assolutamente come ho letto dalle tante cronache dei colleghi non vuol sentir parlare di toccare la scuola il discorso del sabato per esempio è stato escluso a priori